Bene, io direi che sono le 9.02, possiamo anche cominciare, poi man mano penso che si aggiungeranno altre persone, ma siete qui su Zoom e potete anche condividere domande, opinioni personali, insomma dentro la chat potete scrivere nella chat di Zoom, ma l'evento viene anche mandato in streaming sulla pagina di Zeus e sulla pagina di Ambi, quindi sentitevi anche liberi di invitare altre persone a seguire l'iniziativa. Innanzitutto allora buonasera a tutti, io sono A. Ambi, Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani, in particolare sono Davide Ederle, sono il Presidente Nazionale e appunto facciamo la A di Biotecnologie dalla A alla Z e con me c'è Zeta. Zeta di Zeus, buonasera a tutti, io invece sono Nemi Burgio, biotecnologa, vicepresidente Zeus, divulgazione scientifica Genova, è un piacere avervi qui, è un piacere avere qui come special guest Francesco Dosi che è organizzatore, adesso ve lo presenteremo, del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica da Francesco Ticolnetti. Eccolo, ciao Francesco! Eccomi, ciao a tutti! Allora Francesco, cosa ci racconti? Raccontaci qualcosa di te dell'Associazione Hub Divulgazione e del Premio Nazionale. Allora, intanto grazie per, insomma, per avermi invitato come special guest soprattutto, devo dire, è un appellativo che, insomma, mi dà una certa responsabilità. No, naturalmente, a parte gli scherzi, grazie Davide, grazie Ambi per aver organizzato questo incontro, grazie Noemi per il supporto con Zeus che hai dato nell'organizzare questa occasione. Io credo che occasioni come queste di confronto, di approfondimento su certe discipline scientifiche siano importanti, in particolare perché, da quanto ho capito, più o meno il 60% dei partecipanti a questo incontro sono studenti. Quindi sono importanti occasioni anche per capire un po' su quali strade orientarsi in futuro. Quindi per questo vi ringrazio. Vi ringrazio anche per avermi invitato nel raccontare un po' quella che è l'esperienza del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. È un premio che è dedicato alla memoria di mio padre, che io ho portato avanti, insomma, e porto avanti da circa tre anni, ed è un concorso letterario rivolto ad opere, libri, articoli e video orientate, insomma, delle opere che sono specificatamente di tipo divulgativo. La divulgazione scientifica, adesso avremo modo di approfondirlo, però in pochissime parole, vuol dire spiegare argomenti complessi al grande pubblico. Questo però lo approfondiremo via via, perché uno tra gli obiettivi principali del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è quello un po' non tanto di mettere in luce il prodotto della divulgazione, cioè quello che mi auguro tanti fra voi in futuro, insomma, porteranno, diffonderanno, quanto piuttosto chi questa attività la compie. E abbiamo visto che fare attività di divulgazione scientifica è molto importante per diversi aspetti. Intanto abbiamo organizzato una serie di interviste proprio con AppDivulgazione, che Noemi ricordava, e di cui Zeus fa parte. AppDivulgazione è una rete di associazioni che si occupano di divulgazione scientifica, e che abbiamo riunito lo scorso anno per farci aiutare nella valutazione dei libri, ma anche per iniziare a creare una vera e propria rete di contatti. So che ad esempio anche Zeus ha iniziato a collaborare, ospiti di questi interventi saranno anche Biopils, Minerva, fanno parte di questa rete. E abbiamo presentato l'ottava edizione del Premio, aperta da circa un mese, proprio intervistando chi queste associazioni e organizzazioni di divulgazione scientifica le porta avanti. E dunque, che cosa è? Questo è il modo con cui ho conosciuto Doemi, la quale mi ha detto ma Francesco, diciamo, vienici un po' a presentare il Premio e anche le opportunità che nascono dalla divulgazione scientifica. E bene, vi confesso che in questi anni di esperienza è emerso che l'attività del divulgatore scientifico raramente, in rare occasioni, rappresenta un effettivo lavoro che possono svolgere i divulgatori. Spesso sono attività laterali ma ugualmente molto importanti e questo è emerso da questa serie di interviste che abbiamo organizzato e che potete vedere anche sui canali YouTube del Premio e delle varie organizzazioni. Poi dopo manderemo a tutti i vari link, a tutti i partecipanti. Eh, ma raccontaci magari qualche flash di chi ha vinto il Premio negli scorsi anni e poi eventualmente come si fa a partecipare per le prossime edizioni. Ah, questo certamente. Intanto è molto interessante il fatto che sia un Premio multidisciplinare. Nel, negli scorsi anni, nel 2017, vinse un libro che si chiama Expert Brain di Antonio Cerasa, un ricercatore del CNR, che indaga un po' la bravura, le connessioni tra menti eccelse in vari campi lavorativi, cioè dal grande chef, dal grande scacchista, quindi cosa li accomunasse. Ma lo scorso anno ha vinto anche un libro, nel 2018, che raccontasse come si scrive bene. Il libro era di Luccone, Punteggiare Rapido Accorto, di La Terza, e raccontava in maniera accattivante, affascinante, l'arte della scrittura. E quindi la divulgazione scientifica, ed era un po' l'oggetto anche delle interviste che abbiamo fatto, è importante per ogni ambito, ed era questo il titolo di queste interviste. Ma ci ha ricordato anche Salvatore Riggio e Francesco, insomma, di Zeus, che è importante perché è divertente fare divulgazione scientifica. Mette in gioco il divulgatore, e poi, cosa ben più importante, oltre a tutti i contatti che si creano, fa partecipare il divulgatore stesso a una missione ben più importante, quella di far comprendere quanto l'approccio, e non tanto l'informazione in sé, ma l'approccio critico alle informazioni sia importante. Noi, leggevo pochi giorni fa, e questo dato forse sorprenderà, abbiamo fra i sistemi educativi migliori in termini di risultati e di investimenti a livello europeo e dei membri Paesi Oxfam. Adesso probabilmente quel 5% di professoresse potrebbero cadere dalla sedia, ma vi spiegherò meglio immediatamente, che abbiamo uno tra i migliori sistemi educativi a livello elementare. Cioè le nostre scuole elementari sono di buon livello. In termini di via via che l'istruzione si fa superiore fino ad arrivare all'università, questi risultati e questi investimenti crollano drasticamente. E questo sappiamo, è un po' un retaggio storico, perché per colmare quell'analfabetismo dilagante post-Seconda Guerra Mondiale, si decise di compiere quegli investimenti. E non sono mai stati cambiati questa logica. Quindi è importante puntare l'attenzione sulla ricerca, l'università, e quindi chi partecipa anche a questa rete, a divulgazione, ha detto, come Andrea Moccia di Geologia Pop, ad esempio, io non solo faccio attività di divulgazione, ma voglio ridare valori alla professione che ho compiuto. E quindi sotto questo aspetto è molto importante. Io aggiungo sempre, non abbiamo bisogno di brillanti studenti elementari per il progresso, insomma, della società, ma abbiamo bisogno di eccezionali studenti dell'università, eccezionali professori, eccezionali persone laureate. E aggiungo io, insomma, come premio nazionale di divulgazione scientifica, abbiamo bisogno anche di eccezionali divulgatori che diffondano e puntino l'attenzione sull'importanza della divulgazione scientifica e dell'approccio critico all'informazione. Quindi questo è l'obiettivo principale del premio e questo, insomma, quello che speriamo piano piano di diffondere il più possibile. Grazie mille Francesco per il tuo intervento. Ne approfitto soprattutto per dire, come hai detto tu, che Zeus fa parte di Hub Divulgazione e noi questa sera vogliamo un attimino porci un po' accanto a tutti i partecipanti perché se volete, avete voglia, potete assolutamente scriverci. So che siete magari sparsi in diverse città d'Italia, ma proprio perché siamo una grande rete nazionale di divulgatori, anche Francesco magari e Ambic ci aiuteranno magari a recuperare i contatti, non abbiate paura, potete avvicinarvi ad associazioni di questo tipo per provare a dare il vostro contributo o in termini di volontariato, di contenuti, come preferite. Grazie ancora Francesco. Grazie a voi. Infatti, anche perché appunto questo format di biotecnologia della Z parte da A a B, finisce con Z, ma in mezzo ci stanno tutte le altre lettere. Quindi in queste serate, vedrete come abbiamo presentato questa sera Francesco, presenteremo anche altre realtà che magari sono proprio sul vostro territorio fisicamente con cui potete interagire, seguire gli eventi, aiutarli a divulgarli, a organizzarli, a gestirli. Insomma, per cui siate protagonisti il più possibile. Allora, innanzitutto noi tre siamo i moderatori della serata, ma i moderatori senza un relatore fanno molto poco. Quindi è arrivato il momento di arrivare nel clou della serata presentando la nostra relatrice, che è Agnese Collino. Toc toc, Agnese ci sei? Ecco, benvenuta tra noi. La chiamata risponde. Esatto, allora due parole, ma proprio due per presentare Agnese. Agnese Collino fa un lavoro stranissimo, ma bellissimo. Lei è supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, il che significa, Agnese? È un numero boante per intendere le persone all'interno di Fondazione, perché non sono solo io, siamo un team di cinque persone, che si occupano di controllare che tutte le comunicazioni, tutto il materiale di divulgazione e non della Fondazione sia corretto da un punto di vista scientifico e non solo, realizziamo noi stessi la maggioranza del materiale di comunicazione divulgativa, quindi di divulgazione della Fondazione, che tra l'altro è una proprio delle nostre mission, quindi al di là del supporto della ricerca scientifica, nel nostro DNA c'è proprio anche la divulgazione scientifica. Secondo noi è importantissimo, sono molto contenta dell'introduzione che ha fatto sul tema Francesco, perché secondo noi non c'è buona scienza se non c'è altrettanto buona divulgazione scientifica. Bisogna che i frutti della scienza arrivino poi ai cittadini, che sono tra l'altro i primi finanziatori di questa ricerca scientifica. Quindi c'è sia un aspetto di divertimento, di passione nel farlo, sia un aspetto fortemente etico, secondo noi. Per cui sono molto contenta di serate come questa, perché fanno veramente parte di questo sforzo. Beh, noi personalmente siamo anche molto contenti che dei biotecnologi siano impegnati per una corretta informazione e divulgazione scientifica, perché, insomma, una delle missioni delle biotecnologie non è solo quella di cambiare il mondo, ma anche di raccontare questa storia. E infatti questa sera ti abbiamo invitato proprio per cominciare a farlo, partendo proprio da una apertura generale sulle biotecnologie. Per cui adesso noi faremo un piccolo passo indietro e ti lasceremo il campo per aprire la chiacchierata, poi dopo preparati, ti bombarderemo di domande, di curiosità, di questioni. Anche voi del pubblico, sentitevi liberi di intervenire quando volete, scrivete, ecco, possibilmente non insulti, grazie, ma a parte gli scherzi, sentitevi protagonisti di questa serata, perché è una serata pensata per voi. A te il palco. Allora, detto che se avete delle domande, voi, intendo, voi moderatori e, insomma, chi di voi vuole porre delle domande in itinere, siete i benvenuti, perché se rendiamo questa cosa un po' più vivace, e, secondo me, è anche meglio per tutti quanti. Io mi scuso un po' per la qualità della camera, perché sembra che io stia chiamando dalla caverna di Kabul, fondamentalmente, però spero, insomma, che riusciate comunque a seguire bene. E niente, cominciamo a parlare un po' di biotecnologie. Biotecnologie sembra un termine, diciamo, super innovativo, una cosa picchissima, no, sulla cresta dell'onda che è emersa l'altro ieri. In realtà, il termine biotecnologie è stato cognato nel 1919, quindi a inizio del Novecento, da questo agronomo ungherese, e poi vi racconta anche meglio il perché. E ancora prima di questo termine, perché ovviamente il termine di solito si conia per qualcosa che già esiste, o comunque si pensa, noi tutti, come esseri umani, avevamo già nell'animo un pochino lo spirito del biotecnologo e questo afflato verso le biotecnologie. Perché dalla notte dei tempi, quando abbiamo cominciato a fare la domesticazione degli animali e poi delle specie vegetali, e a fare gli incroci tra di loro per cercare di selezionare quelli che erano gli aspetti migliori in animali e piante, migliori per l'uomo, migliori per l'animale stesso, o comunque per la resa dei vegetali, di fatto avevamo un po' già in mente quello che era poi l'obiettivo principale di molte, diciamo, dei filoni delle biotecnologie. Poi, diciamo, questi tentativi si sono raffinati via via, abbiamo ottenuto, diciamo, tecniche di ibridazione, l'innesto in ambito di agricoltura, per poi arrivare a cose anche un po' più sofisticate. Nel Novecento, per esempio, per cercare di ampliare quella che è la diversità genetica, poi, delle specie, per esempio, vegetali, nel tentativo di trovare, per esempio, specie di grano sempre più efficienti da un punto di vista di resa, visto che comunque la copolazione sta aumentando, abbiamo bisogno di sfamare tutti, si è addirittura cercato di utilizzare risorse nuove, come per esempio i raggi X, che tanti di noi magari hanno nell'immaginario come qualcosa di dannoso, di pericoloso, e quindi di nocivo, di cui aver paura, per, diciamo, ottenere semi che avessero via via delle mutazioni nuove e magari, diciamo, utili a quello che è l'agricoltura e quindi l'ottenimento di cibo sufficiente per tutti e anche magari di maggior qualità, a minor costo, e meno, diciamo, diciamo, meno sfruttamento di terreno agricolo. Ecco, su questo, Agnese, ti interrompo subito perché facciamo il lancio della settimana prossima. Settimana prossima avremo Luigi Cattivelli che ci parlerà proprio di cosa è stato fatto nel settore agro, ok, in termini di biotecnologie. È stato fatto, si fa e si farà. Per cui, ottimo lancio per la prossima settimana. E non solo il lancio, perché adesso lo riprendo anche, nel senso che forse è proprio giusto partire dall'ambito agronomico con le biotecnologie, perché, come dicevo, il nome biotecnologie è stato coniato da un agronomo, un agronomo ungherese, che si chiamava Carl Erchi, se non sbaglio, e lui ha coniato questo termine un pochino per cercare di definire quelle che erano le tecniche che stavano nascendo, che in realtà esistevano da molto più tempo, ma si riusciva a capire di più da un punto di vista scientifico, a inizio Novecento, che sfruttavano la fermentazione, questo processo attuato da batteri, da microrganismi, che a partire da una certa sostanza di partenza e con alcune reazioni chimiche erano in grado di trasformare questa materia in qualcos'altro. E le fermentazioni noi le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, perché tanti prodotti, ad esempio alimentari, pensiamo alla birra, pensiamo ad alcuni tipi di formaggi con le muffe, insomma, ne abbiamo veramente di tanti tipi diversi di reazioni che includano la fermentazione e che ci portano prodotti di uso quotidiano. Dovete tenere presente però che ovviamente fino al Novecento, quando un certo signore di nome Pasteur ha cominciato a capire meglio com'è che questi prodotti venivano creati grazie a microrganismi invisibili che fino a poco tempo prima neanche si sapeva esistessero, non si sapeva bene che questa era di fatto una vera e propria reazione chimica che poteva quindi essere anche controllata dall'essere umano, messa in campo quando si desiderava e anche migliorata magari, resa diciamo attuata in maniera più consapevole, mettiamola così. E quindi questo agronomo ha cominciato a descrivere queste reazioni e anche a profilare un futuro in cui le si potesse usare ad esempio per realizzare combustibili. Oppure diciamo ovviamente alimenti, materiali, anche altri materiali per esempio di costruzione, materiali utili alla società umana. Quindi uno sguardo abbastanza di larga veduta. Lui ovviamente produceva per lo più materiale, diciamo cibo, quindi alimenti, e quindi aveva soprattutto quell'obiettivo lì in mente, però sapeva già, aveva già capito che questa poteva essere diciamo una strada promettente per tanti usi diversi. e i batteri sono stati diciamo un po' la grande fabbrica se vogliamo degli esseri umani per tutta questa prima parte del secolo scorso. Quindi veramente si è scoperto, avendo scoperto queste vite invisibili di cui ci rendevamo poco conto fino a poco prima, abbiamo scoperto veramente una grande potenzialità che non sapevamo di avere nell'utilizzo appunto di questi microorganismi per tante cose diverse. E ancora oggi ne facciamo ampio utilizzo e sono sulla cresta dell'onda per tante cose perché tenete solo presente in ambito medico, io ovviamente mi occupo di oncologia e sono una biotecnologa da ambito medico, quindi ho soprattutto quella forma mentis ma vale per tutti i campi. Teniamo solo presente ad esempio l'uso dei probiotici o dei prebiotici, quindi tutto quello che è microbioma intestinale, non so se ne avete sentito parlare, che tanto sembrerebbe condizionare la nostra salute, ecco che come diciamo possiamo modulare i batteri che fanno parte della nostra flora intestinale, possiamo interferire molto con la nostra salute e quindi anche diciamo con il nostro benessere. Quindi giusto per darvi questa prima panoramica. La storia però che vorrei raccontarvi oggi meglio prende le fila da un po' più tardi. Questo è stato un po' un cappello per spiegare dov'è che sono nate queste benedette biotecnologie che poi come diceva, diciamo, preannunciava un po' il buon Davide Ederle, hanno preso diversi rami, un po' come forse aveva in mente quest'agronomo ungherese all'inizio, perché abbiamo le biotecnologie vegetali, quelle industriali e ne sentiremo parlare nei prossimi incontri di Ambia e di Zeus e poi diciamo anche tanti altri sottotipi ulteriori a seconda un po' di come poi queste biotecnologie vengono applicate ai diversi ambiti dell'attività umana. Ecco, la storia che volevo raccontarvi prende avvio da un po' più tardi perché un altro elemento che sarà importantissimo nella storia delle biotecnologie è un po' quello rivoluzionario della scoperta del DNA, che ovviamente ha rivoluzionato un pochino non solo le biotecnologie, ma l'ambito stesso della ricerca della scienza un po' in tutti gli ambiti, non solo quello della salute tra l'altro come vedremo. E questa scoperta avviene nel 1953 come tanti di noi sappiamo e subito dà l'avvio a una serie di diciamo scoperte collaterali. Lo stesso anno prima della scoperta del DNA o perlomeno che il DNA fosse il recipiente delle informazioni che diciamo che codificano un po' tutto il nostro corpo, tutto il nostro essere, tutte le funzioni delle nostre cellule. L'anno prima si è scoperto che i batteri ad esempio che sono così importanti come abbiamo visto spesso si scambiano fra di loro informazioni genetiche attraverso dei piccoli anellini di DNA. Quindi hanno i loro cromosomi come noi nelle loro cellule hanno anche dei piccoli DNA diciamo anellini di DNA con cui all'interno dei quali ci sono dei geni che loro si possono scambiare fra di loro. Un po' come noi con le chiavette USB dove dentro ci mettiamo i documenti e invece di scambiarci tutto l'hard disk ci scambiamo la chiavetta USB per scambiarci diciamo le informazioni. Questo sarà importante perché un decennio dopo diciamo tra gli anni 60 e gli anni 70 ecco a cavallo di questi due decenni si comincia a fare un'altra scoperta importantissima e poi gli scienziati faranno uno più uno più uno e da lì ci sarà la vera rivoluzione diciamo delle biotecnologie perché nel 67 in questi benedettissimi batteri vengono scoperti degli enzimi molto particolari si chiamano ligasi cosa fanno le ligasi? Appiccicano pezzi di DNA diversi compatibili diciamo in termini di basi sapete che il DNA è fatto da quattro basi diverse diverse che si combinano fra di loro con un ordine preciso questi enzimi diciamo appiccicano pezzi di DNA diversi fra di loro e diciamo nel 70 si scopre invece che questi batteri avevano anche gli enzimi opposti cioè quelli in grado di tagliare il DNA in punti specifici delle loro sequenze cioè riconoscono magari sei basi diverse in una certa sequenza ATGC per esempio sto sparando a caso e lì sanno che vanno e tagliano tagliano il DNA in quel punto ecco questa diciamo è una scoperta molto interessante non tanto per la scoperta in sé si è scoperto che i batteri usavano questi enzimi a scopo difensivo per esempio siccome esistono anche microorganismi che attaccano i batteri stessi esistono dei virus che attaccano i batteri i batteri per difendersi hanno questi enzimi che vanno a tagliuzzare diciamo il genoma dei virus che li attacca quindi super ingegnoso ma la scoperta vera è l'utilizzo poi di questa tecnica che si è fatto dopo un po' diciamo nella filosofia delle biotecnologie che si studiano le tecniche si studiano diciamo l'essere vivente l'organismo ma al contempo studiano le tecniche che si possono attuare a partire da queste conoscenze fondamentali e che possono quindi portarci a un'applicazione pratica di questa conoscenza che stiamo ottenendo dicevo abbiamo scoperto che c'è l'ina che porta l'informazione c'è un enzima che ci aiuta ad appiccicare pezzi diversi di queste informazioni tra di loro enzimi che aiutano a tagliuzzare dove vogliamo che cosa potremmo mai fare se lo inventano dei ricercatori americani in particolare c'è questo Boyer che è questo diciamo ricercatore microbiologo se non sbaglio della San Francisco Medical School che nel 72 se ne va a Onolulu a fare una conferenza scientifica perché gli scienziati hanno una vita sfigata ma ogni tanto fanno pure conferenze in posti fighi e becca Stoccoen che invece è un ricercatore vedo che ridono perché lo sanno anche loro urbetti beccano Stoccoen che invece sta a Stanford e loro due si occupano di due diciamo temi diversi nel senso che Boyer si occupa di scoprire enzimi di restrizione che sono questi enzimi che tagliuzzano che dicevamo sta nel laboratorio che ha scoperto il primo enzima di restrizione Coen invece si occupa di studiare la resistenza dei batteri agli antibiotici sapete che gli antibiotici sono questi farmaci che sono stati scoperti anche questi a inizio novecento che sono in grado di uccidere i batteri si scopre però che alcuni batteri sono in grado di resistere di sviluppare resistenza a questi farmaci e tra l'altro si passano la resistenza tra di loro con queste chiavette USB che abbiamo chiamato plasmidi questi anelli circolari di DNA che dicevamo prima e loro chiacchierano a uno lulu tra un tramezzino e l'altro come fanno tutti i ricercatori ancora adesso e dicono ma perché non proviamo a fare una cosa figa nel senso io Coen sto provando a vedere se riesco a prendere un pezzo di DNA un gene che conferisce la resistenza all'antibiotico e diciamo piazzarlo in un plasmide per farlo portare da questo batterio a un altro batterio diciamo prendere una resistenza in particolare che sta in una specie di batteri e non in un'altra specie e vedere se riesco diciamo mettendolo in un plasmide a farlo andare in un'altra specie di batteri a scopo conoscitivo ovviamente perché nella natura non sarebbe proprio il caso di far circolare la resistenza e Boyer dice ma sai che c'è? Ti aiuto io nel senso che io invece noi lavoriamo appunto tagliuzzando e cucendo il DNA con questa tecnica qua vediamo che cosa riusciamo a fare tra l'altro Coen furbetto mica c'era andato per caso dall'amico Boyer perché Coen ed è qui tra l'altro la storia figa dei ricercatori che lavorando in un istituto di ricerca al piano di sotto c'è qualcuno che lavora su un'altra cosa ancora e Coen in particolare era il dirimpettaio stava al piano di sotto due piani di sopra non mi ricordo di questo Paul Berg che è stato il ricercatore al mondo che ha realizzato la prima molecola di DNA mista si chiama ricombinante cioè appiccicando con le ligasi e gli enzimi di restrizione due pezzi di DNA diversi provenienti da due virus diversi in questo particolare caso e quindi un elemento in più già qualcuno aveva provato a appiccicare DNA diversi fra di loro Coen ha andato a chiedere all'amico Fritz mi aiuti a fare questo lavoro qua per vedere se riusciamo a trasferire dell'informazione da un batterio all'altro e ci sono riusciti nel 72 non solo hanno realizzato una molecola di DNA ricombinante quindi hanno appiccicato una gene di resistenza di un batterio all'interno di un plasmide diciamo che aveva un'altra provenienza ma soprattutto Coen è riuscito a infilare questo plasmide dentro un certo tipo di batteri e ha verificato che era in grado diciamo di trasmettere questa informazione ad altri batteri e non solo questi batteri si pigliavano questa informazione erano in grado di far funzionare quel gene lì anche se non era il loro naturale e questa proteina che veniva prodotta da questo gene funzionava ed è stata una scoperta mondiale non tanto per i batteri uccidi perché che cosa te ne vuoi fare tra l'altro ammazziamoli subito perché se poi questi circolano bene non fa quindi diciamo c'è ovviamente un aspetto di attenzione ma era mondiale perché i ricercatori si sono immediatamente resi conto dell'enormità delle possibilità aperte da questa nuova tecnologia si chiama tecnologia del DNA ricombinante se qualcuno di voi deciderà di studiare biotecnologie vedrete che ce l'avrete mi martelleranno gli zebedei con questa DNA ricombinante fino a che non finirete il corso fondamentalmente ma è veramente importante perché questo significava aprire l'era che oggi che ancora oggi vediamo che si è tramutata nell'era dell'editing genomico ovvero del modificare le molecole di DNA nella maniera più utile o comunque migliore penso che molti si siano esaltati anche loro effettivamente per questa scoperta pazzesca è stata questa fantastica eravamo tutti qua gasati insieme a Cohen e Boyer ha aperto l'era della possibilità di modificare il genoma dei microorganismi ma non solo perché poi vedremo anche delle piante insomma di altri organismi e sfruttare le loro potenzialità per fare tante cose diverse che adesso magari vi do anche qualche esempio anzi ve lo do subito così ci diamo già qualche idea avete presente i farmaci ingegnerizzati piuttosto che i vaccini di nuova generazione una volta i vaccini come si facevano si prendeva il virus o il batterio li si sbatteva in pentola li si faceva bollire facendoli a pezzi oppure li si metteva dentro un agente chimico molto aggressivo li si faceva a pezzi questo bel putpurì di pezzi di virus o batterio li si iniettava dentro una persona e questa era la vaccinazione con tutta una serie di problemi e di rischi ovviamente perché se io non ho inattivato bene questo batterio o questo virus rischio di provocarti la malattia oltre al fatto che ovviamente era un estratto molto sporco insomma non era il massimo della vita i vaccini di nuova generazione se noi sappiamo qual è il pezzettino del microorganismo che aiuta a scatenare le nostre risposte immunitarie senza provocarci la malattia noi facciamo codificare produciamo quel pezzettino lì e basta di proteina all'interno dei nostri batteri lo estraiamo dai batteri lo puliamo bene possiamo inoculare solo questo nei pazienti quindi assolutamente in maniera più sicura meno costosa e diciamo migliore per tutti con meno effetti collaterali e così via quindi diciamo questa è solo una delle possibili applicazioni ma ce ne sono infinite diciamo l'applicazione forse più nota a tutti quanti e ne parlerete immagino nel prossimo incontro è quello degli OGM con tutta una serie ovviamente di dibattiti di altro tipo però è sicuramente una grande prospettiva ecco cosa succede la gente si accorge i ricercatori si accorgono che è successa questa cosa e nell'anno diciamo questo succede mi sembra nel 72 73 nel 75 c'è questa conferenza in California ad Asilomar che è molto diciamo è stata molto importante nella storia delle biotecnologie perché i ricercatori si sono trovati in questo posto tra l'altro molto bello sembra che fosse immerso tra sequoie alberi maestosi insomma un bel posto anche abbastanza isolato e i ricercatori hanno cominciato a parlare di questa nuovissima prospettiva della tecnologia del DNA ricombinante hanno detto ragazzi questa cosa è super figa ma è anche potenzialmente molto pericolosa perché metti che qualcuno malintenzionato infila diciamo un gene di una certa che provoca il cancro per esempio all'interno di un batterio e fa infettare tutti con questo batterio esempio per cui veramente riflettiamoci un attimo perché questa tecnologia apre potenzialità infinite per la salute umana per il suo benessere per l'economia per quello che vogliamo ma anche infiniti rischi potenziali quindi cosa è successo in questa conferenza si è parlato di queste nuove tecnologie ma soprattutto i ricercatori che mi sembra fossero 140 se non sbaglio fra di loro c'è chi ha proposto di porre una moratoria su queste tecnologie per cercare di fermare un attimo i lavori su questa tecnologia e cercare prima di analizzare i possibili rischi conseguenti da queste tecniche in modo da diciamo porsi loro stessi per primi dei limiti finché non ne avessero saputi di più e soprattutto non ci si fosse tutti quanti interrogati sul se a livello di società era etico o meno procedere con questi esperimenti questo è stato uno dei primi esempi sicuramente uno degli esempi più noti a livello storico di come i ricercatori stessi che non sono cosa altra dalla società fanno parte della società si pongono per primi gli stessi dilemmi etici che poi si pone la società stessa cioè è giusto noi abbiamo questi poteri enormi ma è giusto usarli e se è giusto come usarli e che cosa invece non è lecito fare con queste potenzialità e badate che è molto importante questa storia che io vi sto cercando di raccontare in maniera un po' simpatica perché è successo anche molto più recentemente nel 2015 se non sbaglio correggetemi se sbaglio con la nuova tecnica del CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 che forse avrete letto un po' in giro nei giornali se ne parla abbastanza diffusamente magari in questi anni in quest'anno in particolare con il Covid magari un po' meno però se ne è parlato parecchio che è questa nuova tecnica che è uscita appunto pochi anni fa scoperta anche questa a partire da meccanismi naturali che avvengono all'interno dei microrganismi e che permette di fare quello che dicevamo prima l'editing genetico cioè prima parlavamo di tagli e cuci di pezzetti di DNA qui siamo in grado di andare a correggere lettera per lettera in maniera molto precisa quello che c'è scritto in un certo gene in una certa porzione insomma del nostro genoma quindi veramente una correzione molto precisa pensate che potenzialità ha questo per risolvere ad esempio le malattie genetiche dove abbiamo un errore di una lettera o di poche lettere all'interno di un gene che fa sì che una persona magari stia male tutta la vita quindi veramente potenzialità enormi ma altrettanto enormi rischi perché una tecnica così precisa tra l'altro semplice poco costosa che può essere implementata da qualsiasi laboratorio se non controllata ovviamente potrebbe potenzialmente portare anche a malintenzionati che ci fanno cose strane e la stessa richiesta di moratoria che era stata fatta da Silomar nel 1975 è stata proposta da dei ricercatori anche nel 2015 per le tecniche di CRISPR-Cas quindi vedete sono dilemmi etici che si ripropongono a livello ciclico man mano che la tecnologia avanza e le biotecnologie oltre a essere importantissime da un punto di vista sociale economico oltre che medico e scientifico ovviamente mi hanno tanto diciamo interessato nei miei primi anni quando ho deciso di prendere biotecnologie nel mio percorso di studi proprio per questo perché sono un po' al centro del nostro dibattito sociale aprono sono talmente rivoluzionare nelle tecniche e nelle possibilità che offrono di decenni in decenni quasi di anno in anno ormai a livello scientifico da forse un po' al centro del dibattito sociale del dibattito pubblico con dei quesiti a cui non è facile rispondere perché da un punto di vista etico ovviamente la risposta giusta o sbagliata non ce l'ha nessuno comunque per tornare un po' alla nostra storia Asilomar ha messo diciamo un po' un alt al lavoro dei ricercatori salvo che le implicazioni tecnologiche potenziali da queste tecniche erano talmente enormi e illimitate che dopo un po' si è deciso comunque di iniziare a lavorare con queste tecniche di fare qualcosa perché rimanere con le mani legate davanti al sacro graal pensate a tutte le persone malate che magari si aspettavano chissà cosa da queste nuove tecniche era veramente impensabile a lungo termine anzi anche a breve perché di fatto già dall'anno successivo si è ricominciato a ridiscutere questa questa moratoria ovviamente con tutto un cancan mediatico perché non è che solo oggi si fanno le bagarre a livello mediatico già i tempi politici media hanno cominciato a discutere i politici hanno cominciato a dire sì ma allora vogliamo avere una parola cioè vogliamo avere un ruolo nel decidere come utilizzare queste tecniche gli scienziati ecco i politici vogliono intromettersi nella scienza insomma ne sappiamo qualcosa perché secondo me al giorno d'oggi di queste scene qua ne abbiamo più o meno davanti agli occhi sempre come anche giusto forse che sia sta di fatto che si è cominciato pian piano ad utilizzare queste tecniche negli Stati Uniti l'NIH che sono i National Health Institutes diciamo un po' una delle più grandi entità scientifiche americane nonché una di quelle che detta un po' legge in questi ambiti ha cercato di stabilire delle linee guida su come utilizzare queste tecnologie in modo da renderle sicure quindi confinando questi esperimenti in istituti di contenimento in luoghi di contenimento in modo da evitare che qualora venisse creato un organismo che portava del DNA modificato non sfuggisse al di fuori del laboratorio e diciamo progettare questi stessi organismi eventualmente nella maniera in cui se anche per qualsiasi caso fossero dovuti uscire all'esterno non avrebbero potuto propagarsi per cui di fatto rendendoli sicuri per l'ambiente per l'essere umano per gli animali e per quant'altro quindi queste erano un po' le prime linee guida ovviamente con il progresso del sapere ci si è un po' evoluti anche in quel senso oltre al fatto che ovviamente la comunità scientifica è vasta e ramificata per cui di fatto si sa tutti un pochino a che punto si arriva man mano del progredire diciamo delle applicazioni tecnologiche la cosa interessante anche di questa storia che volevo raccontarvi è un pochino come le biotecnologie al di là di questo sapere e delle possibilità crea anche impresa io ho fatto un corso di biotecnologie che purtroppo oggi non esiste più era un corso diciamo proveniente da un progetto europeo che aveva aperto questo corso che si chiamava biotecnologie orientate a creazione di impresa che aveva sede a Perugia ai tempi adesso credo che sia stato chiuso perché era uno spin off europeo con dei fondi limitati nel tempo e anche quello è un aspetto secondo me molto importante perché le scienze e la curiosità sono uno dei due aspetti fondamentali di chi è biotecnologo ma l'altro aspetto fondamentale è creare qualcosa da questa conoscenza e da questa curiosità quindi trasformare la conoscenza in applicazione pratica che vuol dire lavoro per le persone che vuol dire applicazioni tecnologiche ad uso dei pazienti piuttosto che del consumatore piuttosto che di potenziali settori della società o dell'ambiente che vuol dire anche ovviamente creazione di reddito quindi veramente diciamo cercare di passare dal sapere al fare un po' come il titolo di questo incontro di stasera e che cosa è successo negli anni 70 quando dalla metà degli anni 70 in poi quando si è cominciato un pochino a uscire da questo concetto della moratoria di Asilomar è nata o meglio Boyer quello diciamo che aveva era nel laboratorio che scopriva gli enzimi di restrizione si è messo diciamo in società con un venture capitalist insomma credo comunque diciamo con qualcuno dell'ambito economico e ha dato vita a quella che è stata la prima impresa biotecnologica della storia che si chiama Genentech è nata nel 1976 e credo che Genentech il nome derivasse dall'acronimo proprio Genome Engineering Technology quindi proprio nato da lì dalla tecnica di ingegneria genetica che poi di fatto a quei tempi si concretizzava con la tecnica del DNA ricombinante diciamo e perché è importante questa impresa oltre al fatto che è stata la prima impresa biotecnologica e così via è stata importante perché è quella che ha iniziato a brevettare e commercializzare prodotti ottenuti grazie a queste tecniche di ingegneria genetica e quindi di DNA ricombinante e il primo enzima diciamo il beta test che hanno fatto diciamo di prodotto ottenuto con queste tecniche è stata la somatostatina si tratta di un enzima che forse molti di voi avranno sentito nominare se non altro per il caso di Bella era questo medico diciamo molto controverso degli anni 90 che pensava di curare il cancro con la somatostatina e la vitamina C insomma con un cocktail strano lasciate perdere somatostatina e cancro perché diciamo non è un'equazione che funziona per il momento se non altro non ci sono prove comunque il metodo di Bella non ci interessa perché a parte che non è il tema di stasera ma ve lo dico non funziona chiusa parentesi ma la somatostatina in sé è molto interessante come prodotto come ormone si tratta di un ormone perché è un enzima che a parte che fa scusate un ormone che a parte che fa un sacco di cose nel corpo quindi è un neurotrasmettitore è un ormone che inibisce la produzione di insulina glucagone gli ormoni tiroidei insomma regola un pochino tutto il profilo ormonale del corpo umano se non altro una buona parte è molto importante perché contrasta l'ormone della crescita quindi pensate a tutte le persone che hanno un difetto e producono troppo ormone della crescita hanno bisogno di qualcosa che gli aiuti a bloccare questo processo ovviamente perché non vuol dire solo crescere troppo alti ma vuol dire avere proprio dei problemi di salute e loro cosa hanno fatto hanno ingegnerizzato dei batteri dando loro del DNA dei geni per produrre la somatostatina in maniera tra virgolette sintetica nel senso senza estrarla da altri esseri viventi e perché questo è importantissimo perché la somatostatina vi dicevo è un neurotrasmettitore e prima di questa rivoluzione tecnologica e prima della Gineintec per produrre la somatostatina e venderla a livello commerciale scusate che riprendo dov'è che me l'ero segnata ecco bisognava estrarre diciamo il contenuto della somatostatina si otteneva estraendo la molecola dai cervelli di mezzo milione di pecore alla volta diciamo all'anno e con diciamo spreco di vite di organismi decisamente molto più complessi di batteri che hanno una percezione del dolore e una vita diciamo sociale anche molto più complessa elevata rispetto dei microrganismi oltre al fatto che ovviamente dover estrarre mezzo milione di cervelli di pecora non era né un'attività semplice né un'attività piacevole diciamocelo ma non solo era un'attività ovviamente anche molto costosa perché stabulare così tante pecore per poter ottenere questa benedetta molecola non era sicuramente una cosa che si fa dall'oggi al domani ecco questo processo per cui con due galloni di diciamo boccia in cui si tengono i batteri ingegnerizzati e gli si fa produrre questa sostanza ha fatto anche crollare i prezzi della somatostatina che è passata in un botto da 30.000 dollari al grammo a 300 e meno dollari al grammo e poi ha continuato anche a calare quindi vedete questa tecnologia questo è solo il primo esempio ma questa tecnologia ha permesso di ottenere un prodotto più puro perché ovviamente estrarre una molecola da tessuti animali può voler dire che si trovino sempre delle tracce del tessuto di partenza nel prodotto quindi ovviamente si ottiene un prodotto più pulito più economico per tutti con beneficio in primis dei pazienti con risparmio di vite animali in questo caso quindi una tecnologia che in qualche modo ha beneficiato un po' tutto il cerchio e su cui tra l'altro è stato anche permesso di guadagnare perché ovviamente questa era un'attività produttiva per questa nuova azienda e non solo perché questo era il loro beta test l'anno successivo hanno deciso di hanno iniziato di passare a quello che poi è diventato il loro blockbuster e cioè l'insulina pensate che fino a quell'epoca l'insulina pensate quanti sono i diabetici e che vita facevano i diabetici prima dell'insulina che oggi abbiamo a disposizione l'insulina fino a quell'epoca veniva estratta dal pancreas di bacche o di maiali quindi anche in questo caso pensate quanto diciamo utilizzo di vita animale per ottenere questo che comunque era un ormone salvavita per i diabetici anche in questo caso ovviamente con l'ottenimento di un ormone che sicuramente non aveva il grado di pulizia di purezza che si può ottenere da un prodotto sintetico e con i costi che vi lascio immaginare ecco Genentech subito dopo la somatostatina è riuscita a ottenere diciamo l'insulina pulita a partire da batteri anche in questo caso grazie alla tecnologia del DNA ricombinante e ancora oggi la otteniamo in questa maniera con dei prezzi ovviamente molto migliori per i pazienti con una disponibilità anche in termini di quantità molto maggiore e quindi diciamo maggiore fruibilità per tutti quanti e da lì non si è più smesso perché poi si è iniziato a produrre tutta una serie di altri prodotti anche l'ormone della crescita stesso che era un po' diciamo per l'utilizzo contrario a quello della somatostatina insomma è stata veramente l'inizio di una grande rivoluzione perché ha permesso la cosiddetta nascita dei farmaci ingegnerizzati e questa è solo stata una delle prime applicazioni di questa grandissima tecnologia che ha poi aperto il mondo a tutto diciamo una serie di altre scoperte di altri prodotti e di miglioramento della vita delle persone senza dubbio su questo guarda faccio subito una nota tanto perché così aggiungiamo una nota di colore sicuramente tutti voi o quasi tutti avete anche mangiato uno di questi enzimi ingegnerizzati non di quelli che ha citato Agnese ma se avete mangiato il formaggio la probabilità che sia stata usata una chimosina sintetica cioè fatta in questo modo è altissima una volta per fare il formaggio bisognava cagliare il latte e si usava un enzima che si chiama chimosina che si trova nello stomaco dei vitelli ora immaginatevi quanti vitelli servirebbero oggi per fare tutto il formaggio che noi mangiamo mentre una volta mangiavano i montanari e pochi altri il formaggio adesso lo mangiamo tutti ora grazie a questo enzima ingegnerizzato ne abbiamo quantità sufficienti e non dobbiamo sacrificare milioni di vitelli per mangiare tutto il formaggio ed è un'innovazione che per il benessere animale da un lato per la qualità dei prodotti dall'altro è fondamentale per dire quanto è stata pervasiva questa tecnologia anche nella vita di tutti i giorni per cui anche di cose di cui non abbiamo mai sospettato però ci ha cambiato non parliamo dei detersivi con tutti gli enzimi che si usano per pulire i detersivi e quant'altro per cui scusa mi piaceva fare questa nota che porta da un livello molto sanitario anche a un livello molto quotidiano hai fatto benissimo perché ovviamente io ho la mia deviazione da biotecnologa medica però quando all'inizio dicevo questa scoperta ha rivoluzionato non solo l'ambito sanitario ma un po' tutti è perché poi questa tecnologia è stata usata veramente in tanti ambiti diversi i batteri così come anche le piante tra l'altro le piante stesse sono dei reattori come si dice formidabili per la produzione di sostante sono diciamo vengono usati in tanti ambiti diversi pensiamo anche a diciamo la sicurezza ambientale o la depurazione tra virgolette a livello ambientale veramente le applicazioni sono infinite e stanno quasi solo alla fantasia un pochino del ricercatore stesso e alla necessità poi del cittadino che propone diciamo una domanda ai ricercatori con questo non voglio dire che tutti i ricercatori siano santi e che le tecnologie siano perfette e pulite cioè mi rendo conto che ci siano dei dibattiti a livello di società che è giusto portare avanti e i ricercatori come vedete loro stessi per primi si pongono dei dubbi sicuramente però è innegabile che queste sono potenzialità estreme e secondo me per chi si pone la domanda di un percorso di studi sono anche estremamente fascinose secondo me quindi se avete un pochino questa diciamo questo interesse sicuramente vale la pena valutarlo ecco ah guarda ho visto che citavi l'aspetto ambientale scusa Noemi ti intervino faccio questa nota il primo brevetto biotech è di un ceppo che degradava il petrolio ok grazie del petrolio e quindi apri un grande dibattito proprio anche sulla brevettabilità di questi organismi non dimenticando che il primo brevetto su un essere vivente l'ha fatto Pasterna in 1800 quando si è brevettato il metodo per la purificazione e l'utilizzo del lievito di birra per fare le cose per cui insomma scusi ho tolto l'audio no io volevo semplicemente dire che ci sono alcuni che hanno già commentato quindi tipo Valeria Denis che effettivamente in realtà tu hai già risposto a quello che hanno detto ma portavano un po' l'esempio di purificazione di molecole da cervello di pecore come dicevi tu questo succedeva anche ad esempio da cadaveri ma non solo per quanto riguarda come diceva Valeria le contaminazioni prioniche ma anche per altri tipi di contaminazione quindi in generale dal punto di vista dell'igiene è sicuramente un avanzamento senza dubbio è stato subito un avanzamento di tecnologia quanto dal punto di vista etico come già più volte detto Agnese anche dal punto di vista della sostenibilità sia per la produzione sia per i pazienti se parliamo sempre di farmaci poi come dicevano anche sempre Valeria la lattase ad esempio che ha cambiato la disponibilità ad esempio per gli intoleranti o Lorenzo che ci parla dell'inquinamento ma è anche già risposto quasi anche a lui quindi grazie per questa carrellata di esempi bravi che ci avete in qualche modo diciamo presi prima e ci avete pensato anche voi perché effettivamente qua sono talmente tante le applicazioni i campi che quasi si fa fatica anche a ricordarseli tutti perché veramente le biotecnologie sono praticamente tutte intorno a noi sembra quasi uno spot della banca ma in realtà è verissimo ne abbiamo paura spesso quando ne parliamo ma in realtà ci circondano già in tante cose della vita quotidiana e ci circondavano quasi ancora prima che noi sapessimo dell'esistenza delle biotecnologie perché noi facevamo uso senza neanche renderci conto del fatto che questi erano proprio dei processi chimici e biologici ecco sì sì quando facciamo il pane in casa di fatto stiamo facendo biotecnologie quando lievitiamo il pane ci sono dei microrganismi che sono saccharomyces cerevisia un lievito e usiamo la sua macchina molecolare per far lievitare il pane come quello ci sono tantissimi altri esempi lo yogurt quando facciamo il yogurt in casa stiamo prendendo dei microrganismi dei batteri lattici e gli stiamo facendo produrre delle cose che interessano a noi e che generalmente non 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 fanno parte insomma delle cose che si trovano in natura così come sono ecco cioè arrivano grazie al fatto che facciamo due cose fondamentali quando facciamo biotecnologie applichiamo l'intelligenza ai problemi e li risolviamo troviamo un modo per risolvere problemi complessi utilizzando sistemi biologici che è una cosa se pensate che abbiamo cominciato da fare fin da subito da quando abbiamo usato le pelli per vestirci perché le pelli non è che le abbiamo trovate in natura così abbiamo preso un animale abbiamo imparato a farlo quando abbiamo inventato la cottura abbiamo usato gli animali le piante per nutrirci e così via e quindi è un'attitudine umana totalmente umana adesso grazie alle tecnologie del DNA recombinante e tutta una serie di altre tecnologie che esploreremo in questo ciclo vedremo che insomma abbiamo pian pianino grazie alla scienza migliorato sempre di più la nostra conoscenza dei sistemi biologici possiamo fare delle cose come tu hai detto Agnese che veramente possono cambiarci la vita ovviamente come tutte le cose che cambiano la vita alle persone generano sempre anche dei dilemmi etici delle domande delle riflessioni che è giusto farsi è giusto darsi delle risposte ma evitare sempre di buttare via il bambino con l'acqua sporca aiuta visto che parliamo dei dilemmi etici ti giro subito una domanda su Chris Kass e i bambini cinesi quindi adesso rispondi sì sì no infatti non volevo dilungarmi troppo però quella ce l'avevo anche un po' nel retropensiero nel senso che c'è chi per esempio Carlo Alberto Redi che è un diciamo uno scienziato nonché anche diciamo biotecista per cui veramente è una mente a 360 gradi che mi ricordo ha scritto un po' contro queste moratorie perché ha detto di fatto ce le si pone ma poi diciamo la scienza va avanti lo stesso nel senso che è difficilissimo bloccare il sapere il desiderio di sapere e detto questo in effetti è quello che è un po' successo a parte dopo Asilomar nel senso che vedete l'importanza che si stava profilando delle applicazioni era talmente forte che poi si è deciso di andare oltre ma soprattutto in questo caso tra l'altro in un mondo molto più moderno come era quello del 2015 con una scienza molto più globalizzata tra l'altro perché ovviamente scienza ad alti livelli in Cina nel 75 forse si era a livelli un po' più indietro però al di là di questo nel 2015 quello che è successo è che c'è stata una richiesta di moratorio da parte dei ricercatori riguardo la tecnica CRISPR-Cas9 salvo poi che si è saputo praticamente subito dopo o subito prima che in Cina c'era chi stava già provando ad utilizzare questa tecnica per ingegnerizzare il genoma di diciamo di oh mamma mia di zigoti ecco quindi di bambini in essere e quindi ovviamente con tutta una serie di problemi etici enormi che ci si poneva perché ovviamente modificare il DNA di una persona può essere diciamo a fine positivo e in quel caso lì in teoria era per cercare di se non sbaglio diminuire la possibilità di infettarsi con HIV una cosa del genere non ricordo bene al momento ma può anche essere fatto per motivi molto meno giustificabili tipo avere gli occhi azzurri o insomma cose di questo genere qua quindi veramente dilemmi etici enormi ovviamente la comunità scientifica in generale cerca di prendere le distanze da queste da queste manifestazioni diciamo di libertà autoreclamata è vero però che altri stati hanno deciso di concedere l'autorizzazione a sperimentazioni di questo tipo controllate nel senso senza poi dare un esito di gravidanza e quindi di formazione dell'organismo quindi a scopo conoscitivo del vedere se si può fare teoricamente e funziona sono dilemmi etici enormi sono dilemmi etici ancora in corso peraltro perché di fatto non è che ci sia una risposta e forse non c'è neanche una risposta definitiva a questi dilemmi e non si sa bene dove porteranno nel senso che c'è un dilemma etico nel permettere cose di questo genere e ad aver paura di permetterla perché ovviamente poi non è che hai sempre il poliziotto dietro che controlla nel bancone dall'altro tu hai una serie di problemi a cui un paziente magari potrebbe rispondere solo con queste nuove tecnologie e chiudere del tutto la porta vorrebbe dire chiudere la porta anche a questi pazienti quindi veramente diciamo io non ho la risposta spero che man mano con l'avanzare delle conoscenze si riesca un po' a fare come è stato fatto negli anni 70 ovvero procedere con calma mettendo via via dei paletti che cerchino di delineare la strada senza essere troppo diciamo repressivi ma delineare la strada cambiandola man mano che le conoscenze vanno avanti questa è un po' la mia percezione io poi non so qui secondo me è anche molto aperto al dibattito nel senso che magari Davide, Noemi Francesco e così via hanno un'idea diversa però secondo me questo è un po' quello che dovrebbe succedere io chiederei proprio al non biotecnologo qui tra i nostri moderatori di darci il suo input sì grazie Davide io mi sono piano piano non ti volevo interrompere Agnese ma mi sono appuntato un po' di domande allora intanto la prima quella che tira acqua un po' al mulino del premio è sapere ed è una domanda che faccio in maniera ricorrente come hai iniziato a fare l'attività di divulgazione scientifica perché io so ti seguo e vedo grazie è un momento esaltazione ma io dici in particolare sicuramente sì e anche la fondazione che oggi rappresenti chiaramente allora fondazione Veronesi è iniziato cioè è nata nel 2003 e il professore già di suo aveva la diciamo la verve del divulgatore nel senso che potevi stare ad ascoltarlo le ore era molto piacevole e in più aveva una visione molto ampia nel senso si interessava molto anche di etica di società per cui gli piaceva anche parlare di scienza perché riusciva a mescolare questi aspetti fra di loro non risultando mai banale né troppo pesante al pubblico perché parlava di cose che interessano anche il pubblico proprio da vicino ma al di là di e quindi la fondazione che lui ha creato non poteva che avere un po' questa natura io in particolare invece ero ricercatrice quindi dopo essermi laureata ho intrapreso il dottorato di ricerca io mi sono allora mi sono laureata e mi sono sempre dedicata un pochino all'ambito oncologico avevo un po' questo pallino e ho iniziato a fare ricerca nell'istituto europeo di oncologia che è qua a Milano anche in questo caso dedicandomi ai tumori del fegato in particolare e mi interessava particolarmente l'aspetto dei microbi e dell'infiammazione che generano i tumori io in particolare nel fegato non mi sono occupata di diciamo tumore del fegato che deriva da microbi quindi in questo caso epatite B e C ma in generale del processo di infiammazione che scatena poi il tumore dopodiché cosa è successo che all'inizio del mio dottorato di ricerca ho dovuto iniziare a lavorare con i topi io non avevo mai lavorato con gli animali prima esattamente nel momento in cui in Italia è scoppiato il grandissimo casino della sperimentazione animale e mi ricordo che avevo una coinquilina a casa qua a Milano all'inizio che era animalista convinta quindi vi lascio immaginare quando ho iniziato a lavorare sui topi le grandi discussioni che scoppiavano ogni volta che io tornavo a casa e però parlando con lei ho iniziato a capire che veramente non si sapeva che cosa succedeva bene in questi laboratori si avevano delle immagini che poi non erano neanche veritiere per cui ho iniziato un po' a parlare sui social quella volta lì c'era solo Facebook di quello che facevo e del perché si faceva ho iniziato a fare anche attivismo con un'associazione che c'è ancora che si chiama Protest Italia su questi temi perché vedevo che proprio diciamo si arrivava a un punto in cui si stava ritoccando un po' anche quella che era la normativa europea per cercare di limitare questi aspetti ma senza una vera base scientifica o logica dietro quindi veramente erano molto preoccupati dopodiché ho cominciato a pensare sì ma io sto facendo divulgazione o attivismo perché non sono esattamente la stessa cosa quindi ho deciso di studiare diciamo di formarmi di più nell'ambito della comunicazione della scienza ho preso un master a Ferrara in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza ho capito bene qual era la distinzione dei due approcci che sono entrambi utili a livello di società nel senso che quando c'è un problema appunto di restrizione legale politica su certi temi che ovviamente sono importanti l'attivismo a volte è utile quando c'è invece un problema proprio di mancanza di conoscenza di opportunità del pubblico di partecipare in maniera costruttiva poi a questi dibattiti c'è necessità di divulgazione quindi con toni molto più pacati molto più diciamo inclusivi senza gli slogan che necessariamente devono semplificare che ci sono nell'attivismo e ho deciso che diciamo per mia indole personale ero più portata per la divulgazione mi interessava di più quindi da quella volta lì ho cercato di dedicarmi anima e corpo alla divulgazione ho trovato diciamo la posizione in Fondazione Veronesi perché da ricercatrice ero già stata finanziata da Fondazione Veronesi si erano accorti che avevo un po' questo pallino mi avevano proposto anche di tenere un blog per la fondazione da ricercatrice e da lì ho iniziato a lavorare in fondazione e alla fine sono passata a fare la divulgatrice full time quindi questo è stato un po' il mio percorso e invece ti chiedo di soddisfare un'altra curiosità e forse anche una ho visto diverse domande su questo aspetto se dovessi sponsorizzare la facoltà di questa disciplina scientifica dovessi dare un consiglio proprio spassionato perché qualcuno l'ha scritto ma se dovessi consigliare a degli amici insomma di intraprendere questa disciplina quale sarebbe insomma il tuo slogan la tua sponsorizzazione poi lascio la parola ma proprio slogan cioè deve essere uno slogan pubblicitario o becero no no esatto perché non voglio essere becera nel senso non nascondo le difficoltà dell'ambito difficoltà lavorative a parte che ci sono in ogni facoltà al momento quindi secondo me è un falso problema però non nascondo le frustrazioni del lavoro di un biotecnologo di un ricercatore la scienza non sempre va come vogliamo quindi il lavoro di laboratorio può non essere sempre diciamo qualcosa che va via liscio e ci fa felici durante la giornata ma se avete questa curiosità e questa passione secondo me dovete seguirla perché non c'è niente di più bello secondo me nella vita di essere dopo tanti esperimenti magari andati male giornate storte ipotesi che si rivelano errate non c'è niente di più bello di avere davanti a te una lastra per esempio di un western block non mi sto a spiegare che cos'è ma insomma un esperimento o una foto di un esperimento di un risultato che hai appena ottenuto vedere il tuo esperimento che ha funzionato tu hai capito questa cosa o sei riuscito a produrre questa cosa e sei il primo al mondo che lo stai vedendo ci sei solo tu al mondo che lo stai vedendo in quel momento sei diciamo è l'anteprima nazionale senza spoiler internazionale quello secondo me è il momento più figo della tua vita e ti ricompensa un po' di tutto il percorso per cui secondo me se uno ha questa un po' spinta interna vale la pena perseguirla assolutamente ok Davide credo che tu abbia ancora ma in realtà volevo approfittarne di questo piccolo perché in realtà questa sera abbiamo una sorpresa per voi vogliamo lanciare con Agnese Francesco Davide quindi Ambia e Zeus una challenge quindi dovete diventare voi se avete voglia anzi speriamo di sì scienziati per un po' quindi chiederei a Agnese di anticiparci come fare questa come partecipare a questa challenge e quali sono gli ingredienti senza dire niente di troppo allora ragazzi volevamo proporvi un ma posso dire il motivo cioè che cosa andiamo a fare giusto perché se no qualcosina bisogna spiegare certamente allora uno dei momenti più fighi secondo me dello scegliere una carriera scientifica o anche solo avvicinarsi a questa carriera scientifica assieme al momento che raccontava Francesco prima del ah ce l'ho fatta è stato almeno nel mio caso vedere con i miei occhi per la prima volta il DNA voi direte ma il DNA non si può vedere cioè è una roba infinitesimale che sta nelle cellule come fai a vederlo invece si può vedere benissimo con alcune condizioni ovviamente che però sono condizioni che possiamo avere anche noi se abbiamo basta che abbiamo una cucina mediamente attrezzata diciamo e quindi cose infatti vedo che qualcuno l'ha già beccata con l'esperimento è un esperimento molto famoso molto anche abusato se vogliamo quindi magari qualcuno di voi lo conosce già però secondo me se qualcuno non l'ha mai fatto è molto interessante ma soprattutto è anche molto non so come dire divertente io la prima volta che ho visto il DNA non avevo fatto l'esperimento della banana l'ho visto in laboratorio quindi molto più avanti e quando ho visto quello zecchino lì ho detto cazzo però che figata usate le parolacce e se mi aiutate no perché mi ero gasata veramente se mi aiutate con la grafica ecco vi do qualche dritta su come fare questo che alla fine è un vero e proprio esperimento e la challenge in che cosa consiste voi provate a farla a casa fotografate il risultato che vi viene e poi credo che ci sia un hashtag o diciamo ci sia diciamo qualcosa per taggare Andy e Zeus giusto taggateci su su Instagram Zeus Genova ma poi magari nella chat vi inseriamo i nostri link i nostri contatti esatto perché vogliamo vedere chi ottiene la mappazza di DNA la nuvolozza poi vediamo bene che forma avrà più carina o comunque chi diciamo si è più gasato o la presenta in maniera più originale il biotecnologo è chi il biotecnologo fa quindi esatto assolutamente allora vedo che molti hanno già proposto diversi frutti c'è chi ha lanciato la banana il kiwi la fragola l'idea è partire estrarre questo benedetto DNA da un frutto che tendenzialmente ha molto DNA io qui propongo la banana perché ha un alto numero di cromosomi per cui di fatto ogni cellula ha una vagonata di DNA per cui estraendolo di solito riesce a vederlo bene questo esperimento qui in realtà si potrebbe fare anche con estraendo il DNA dalle cellule della mucosa della bocca quindi per esempio c'è chi ci prova con uno spazzolino da denti si gratta bene la guancia la gengiva per un paio di minuti così e dopodiché quelle poche celluline che sono rimaste sulle setole dello spazzolino le mette in un po' d'acqua però io tendenzialmente consiglio di partire con il frutto perché è più facile si vede meglio e quindi siete più sicuri di quello che state andando a guardare quindi le cose allora questo esperimento qua come scritto così è quello che noi di solito proponiamo nelle scuole quindi non vi preoccupate se tra diciamo le cose che servono leggete Becker e cose di questo tipo qua che sarebbero quei contenitori che noi usiamo in laboratorio perché non ne avete bisogno in realtà a casa noi li portiamo nelle scuole ma potete fare benissimo con quello che trovate in cucina avete bisogno solo di un pezzo di banana un po' di detersivo per i piatti acqua sale fino succo di limone e alcol che mi rendo conto che in questo periodo non sia la materia prima più abbondante dell'Italia ecco però insomma non ne serve tanto che va raffreddato tenuto in freezer almeno una forchetta un cucchiaio un piatto qualche tazza magari diciamo contenitore in cui puoi girare la soluzione che diremo un colino per filtrare poi quello che che vi racconteremo e poi possibilmente un bicchiere trasparente in cui vedere alla fine il vostro DNA perché ovviamente se è schermato se è colorato non vedete una città vi faccio velocemente vedere com'è che si fa ma vedrete che è veramente molto semplice e vi spiego anche passo passo perché si fa così perché noi in laboratorio tenete presente facciamo esattamente la stessa identica cosa non ovviamente con le cose della cucina perché abbiamo bisogno di dei kit di soluzioni pulite perché ovviamente noi con questo DNA abbiamo bisogno di usarlo per esperimenti successivi quindi abbiamo bisogno di soluzioni sterili una certa pulizia diciamo purezza anche dei reagenti però diciamo il principio è proprio quello prendiamo la nostra banana la mettiamo in un piatto la spiattelliamo cioè la pestiamo con la forchetta e otteniamo una bella purea il più possibile diciamo senza grumi e cose di questo tipo la mettiamo un attimo da parte prepariamo una soluzione con cui andremo a estrarre il DNA dalle cellule della banana perché voi tutti sapete penso che il DNA sta dentro le cellule tiene appunto come diciamo le informazioni della cellula e si tratta di un filo che può essere anche molto lungo perché per esempio nelle nostre cellule ogni cellula contiene due metri di filamento di DNA quindi noi dobbiamo spaccare queste cellule per estrarlo e questa soluzione è a base di acqua un cucchiaino di sale fino un diciamo un goccetto di detersivo liquido e il detersivo liquido si usa perché le cellule sono fatte con una membrana esterna che è fatta di grassi di molecole di grasso per cui abbiamo bisogno di un detersivo che di fatto sapete che il detersivo va a sgrassare spacca quelle che sono i legami tra le diverse molecole di grasso dentro questa soluzione mettiamo anche il succo di limone perché le cellule dei vegetali quindi in questo caso della banana hanno anche una parete cellulare cosiddetta c'è uno strato esterno alla membrana ancora più rigido più duro che dà la consistenza poi alle piante che noi spacchiamo con un acido e in questo caso il succo di limone e poi sale che serve per estrarre l'acqua rubare l'acqua alle cellule aiutando ancora di più il processo di distruzione di queste cellule una volta che abbiamo pronta questa soluzione le combiniamo la banana e la soluzione che abbiamo ottenuto mescoliamo bene cercando di togliere tutti i grumi come se facessimo la cioccolata calda lasciamo agire dieci minuti per dare il tempo alla soluzione di venire a contatto con le cellule e romperle e dopodiché prendiamo una tazza ci mettiamo il colino sopra filtriamo questa questa soluzione che abbiamo ottenuto vedrete che sarà un po' un pappone perché ovviamente abbiamo spaccato le cellule c'è un po' di materiale che fuoriesce l'importante è tenere quello che viene filtrato sotto il colino quello che sta nella tazza lo mettiamo in un bicchiere pulito trasparente cercando di farlo stare tutto sul fondo a questo punto prendiamo il nostro alcol freddo incliniamo il bicchiere un pochino e facciamo colare piano piano sulla superficie diciamo sul bicchiere sulla parete del bicchiere piano piano il nostro alcol freddo in modo che non si mescoli troppo con la fase sotto della banana estratta se noi raddrizziamo il nostro bicchiere avremo sotto lo strato con diciamo l'estratto della banana una fase con l'estratto della banana e sopra avremo una fase con il nostro alcol e vedremo se l'esperimento funziona che pian piano ci sarà una nuvola bianca che passa dallo strato sotto allo strato sopra abbiamo anche un'immagine di cui abbiamo una diapositiva come si suol dire mi piace ricordarlo così esatto ci piace salutava sempre c'è questo strato sotto di diciamo soluzione a base acquosa perché ci ricordiamo che la nostra soluzione di estrazione del DNA è a base di acqua in cui c'era inizialmente il nostro DNA che era disciolto nell'acqua perché il DNA è solubile nell'acqua man mano che il DNA sulla superficie di questa zona gialla che vediamo entra in contatto con l'alcol precipita e quindi si rende visibile un po' come il sale diciamo che quando lo prendiamo sale grosso lo buttiamo nell'acqua della pasta poi si scioglie non lo vediamo più ma in realtà normalmente il sale è precipitato ecco questo perché succede perché l'alcol ruba le molecole di acqua al nostro DNA sciolto nell'acqua e quindi a quel punto il DNA si rende visibile e come si rende visibile vedete quella sorta di nuvoletta che si intravede in alto nuvoletta più chiara dell'alcol esatto quella che sta indicando che ci stanno indicando quella lì è una nuvola di DNA fondamentalmente dovete immaginarvela come un gomitolo di tanti fili annodati tra di loro in maniera caotica perché sono usciti ovviamente in maniera random dalle cellule si sono un po' annodati un po' mescolati quello lì è un gomitolo di DNA il gomitolo del DNA della banana quindi io vi invito a provare a casa vedete è molto semplice tra l'altro non vi preoccupate se sbagliate le dosi se diciamo volete fare un volume doppio metà quello che volete perché di solito è un esperimento che riesce molto facilmente anche senza tenere troppo diciamo le dosi precise e provate magari anche a toglierlo con lo suzzicadenti cioè provate anche a giocarci un attimo quello è il vostro DNA a quel punto fateci un po' qualche prova vedete che consistenza potete raccoglierla con una piccola con lo suzzicadente con qualcosa guardarvelo un po' cioè più pulito più pulito è più trasparente più bianco più è pieno di schifezze mettiamola così esatto e niente questo è diciamo l'esperimentino che possiamo fare tutti a casa che vi invitiamo a fare per vedere un po' qual è il vostro lato biotecnologico di estrazione del DNA se possiamo mettervi sotto e andare a estrarre il DNA delle nostre cellule in laboratorio in realtà questo era l'obiettivo esatto quindi per partecipare ad AZ Challenge fate la foto al vostro esperimento postatela su Instagram taggateci nella chat avete i nostri riferimenti grazie non so se vuoi aggiungere prima qualcosa Davide sì guarda visto che c'è una domanda se uno fa una triennale in biologia e poi una in biotecnologia se uno fa un biotecnologia triennale poi biologia è biologo e biotecnologo allora come ho detto prima biotecnologo è chi biotecnologo fa la definizione di biotecnologia è l'uso di esseri viventi per ottenere beni e servizi se nella vostra vita siete lanciati a risolvere i problemi delle persone inventandovi cose nuove e dando soluzioni innovative siete dei biotecnologi indipendenti potreste avere una laurea in chimica potreste averne una in fisica una in psicologia ma se poi avete acquisito le competenze per fare questo siete dei biotecnologi io sull'etichetta sul valore legale del titolo di studio entro certi limiti può avere un senso ma diciamo che il biotecnologo è l'uomo dell'innovazione cioè quello che prende risultati il sapere il titolo di Agnese no il sapere lo trasforma in fare è quello che dice guarda sappiamo produrre la chimosina allora invece di fare quella dei vitelli la mettiamo dentro un microorganismo e la facciamo la stessa cosa vale per n.mila miliardi degli altri problemi adesso abbiamo una delle più grandi sfide che vedremo nella seconda serata che ci aspetta nella prossima vedremo le biotecnologie verdi poi andremo su quelle industriali le biotecnologie bianche anche lì dobbiamo trasformare questa economia che è lineare cioè prende delle risorse le utilizza e poi le butta via in un'economia circolare cioè che prende delle risorse rinnovabili le riutilizza all'infinito riducendo al minimo gli scarti oggi abbiamo solo il 10% delle materie prime che utilizziamo che è rinnovabile dobbiamo portarle al 15 dobbiamo portarle al 20 al 25 al 30 al 35 ed è compito nostro tutti quelli che fanno questa cosa salvano il pianeta salvano l'umanità cioè non è che avete una missione facile però è fondamentale senza gente che faccia questa roba qui anche se fa una ricerca bellissima non sta facendo biotecnologie ma d'altra parte non sta neanche salvando il mondo per cui abbiamo bisogno di salvatori del mondo in un certo senso perdonate un po' l'over hype cioè l'eccesso di cose però in realtà il biotecnologo è quello che vede il problema e fa di tutto per trovare la soluzione e applicarla renderla disponibile a tutti abbiamo visto tanti esempi questa sera ne vedremo nelle prossime serate per cui io vi aspetterò insieme alla Z nelle prossime serate per approfondire ringrazio tantissimo Agnese per la disponibilità che ci ha dato posso fare solo un ultimo richiamo perché l'ho promesso a uno dei prossimi penso speaker o moderatori dei prossimi incontri volevo un attimo fare un po' pubblicità a questo se a qualcuno interessa tu lo conosci Davide? sì sarà l'autore di questo libro sarà il mio sostituto nella terza serata cioè sarà il generatore di ambi per quella serata ecco per chi volesse magari sapere di più sulle biotecnologie in generale quindi tra l'altro con un taglio molto meno sanitario del mio vi consiglio questo librettino che è sottile come vedete che parla un po' delle biotecnologie tra l'altro soprattutto su quelli che sono un po' i risvolti che raccontava adesso Davide quindi anche diciamo l'aspetto del cercare di riciclare le materie del fare del nostro meglio per rendere questo posto un posto migliore per tutti quanti e grazie davvero già che ci sono sia ad ambi sia a Zeus intanto per avermi coinvolta in questo bel progetto per diciamo il tempo e anche per la disponibilità verso tutti quanti al parlare di questo ambito che secondo me forse in Italia non valorizziamo mai troppo bene troppo abbastanza scusate l'italiano contorto ma penso abbiate capito no molto chiaro allora per chiudere ringraziamo gli oltre 150 partecipanti in diretta eravate molto di più tra gli iscritti per cui magari vediamo se è arrivata a tutti la comunicazione ringraziamo quelli che ci hanno seguito in diretta e quelli che ci seguiranno nelle repliche che faremo nei prossimi giorni quindi da parte mia un ringraziamento ad Agnese a Francesco per averci accompagnato in questo percorso Francesco deadline per il concorso di quest'anno ultimo di agosto ok quindi se qualcuno ha un libro nel cassetto ha qualche idea interessante sapete che Francesco l'aspetta entro il 30 agosto più o meno giù di lì Noemi a te la chiusura allora mi associo anch'io per i ringraziamenti grazie Davide grazie Francesco per essere stato nostro ospite special guest aver portato l'idea di app divulgazione quindi il premio nazionale divulgazione scientifica grazie Agnese sono molto diciamo trasportata dai tuoi racconti perché oltre ad essere biotecnologa sono stata anche divulgatore scientifico anche per fondazione Umberto Veronesi quindi la faccio il cartel quindi è una esperienza veramente interessante nonché in parte ricercatrice quindi quando ho preso le mie celluline dal congelatore ho scoperto che cos'era il DNA perché c'era questa nuvolina bianca erano tutte cellule morte ma a parte questa piccola notizia che quindi mi ha fatto ricominciare l'esperimento ringrazio tutti i partecipanti aspettiamo le vostre foto su Instagram martedì prossimo vi aspettiamo sempre con le stesse modalità di oggi alle 21 perché ci sarà un'altra serata e ci sarà come associazione ospite so che tu tutti conoscete questa associazione frame di vacazioni scientifiche e ci sarà come special guest Beatrice Mautino conoscitissima come divagatrice su Instagram ma anche per i suoi libri quindi contro natura il trucco c'è si vede l'ultimo appena uscito che si chiama la scienza nascosta nei cosmetici grazie a tutti esatto Giorgia che segretaria Amdi ci aiuta nelle prossime eventi ma in questo caso ha anche linkato il link al prossimo evento si esatto il libro era geneticamente modificato di Stefano Bertacchi adesso leggeremo tutti i nostri commenti cercheremo di rispondere a tutti ad alcuni in parte abbiamo già risposto in privato quindi di nuovo grazie grazie vi mandiamo tutti i riferimenti anche per il protocollo così non vi perdete nei miandri e alla prossima grazie a tutti arrivederci d'accordo grazie mille arrivederci buona serata a martedì prossimo arrivederci